Ok. Allora, innanzitutto vedete il mio schermo, lo vedete? Posso partire? Datemi un feedback. Sì, prof, si vede lo schermo. Perfetto, ok. Allora, dicevamo, in effetti voi vi siete ieri fermati a quest'ultima slide, per quello che mi ha detto il professore, e quindi dove avete terminato tutta la parte sulle caratteristiche statiche e quindi avete anche definito l'isteresi, per esempio, di uno strumento o di un sensore e ripetuto, rivisto in qualche modo anche la definizione di ripetibilità applicata al caso dello strumento, perché ormai il concetto di ripetibilità è un concetto che abbiamo iniziato, come dire, a masticarlo bene nelle ultime lezioni, anche in quelle passate, perché è un concetto che, come abbiamo visto, torna spesso nel mondo delle misure. Ora, andiamo, come vi dicevo, ad affrontare le altre tipologie di caratteristica che, pur è importantissima per capire in che modo utilizzare uno strumento di misura, se lo si può utilizzare rispetto ad un certo problema di misura da dover affrontare, che sono le caratteristiche dinamiche. Caratteristiche dinamiche, a differenza di quelle statiche che appunto sono ottenute considerando un ingresso, in pratica, stazionario allo strumento e poi si vanno a verificare tutti i parametri che avete visto, nel caso delle caratteristiche dinamiche, diciamo così che il segnale, lo stimolo in ingresso allo strumento o al trasduttore o al sensore, non è un ingresso continuo, ma è un segnale che ha determinate caratteristiche, sinusoidali o a gradino, e quindi permette di stimolare il sistema, nel caso specifico, per verificare le sue prestazioni appunto dinamiche. In particolare, nel dominio della frequenza, si fa riferimento a delle caratteristiche che prevedono come segnale di stimolo un segnale sinusoidale di ampiezza magari fissata e a varie frequenze, no? In modo tale da cercare di capire innanzitutto, per esempio, qual è la frequenza massima del segnale sinusoidale in ingresso da poter impiegare senza avere una decadenza delle prestazioni da parte del sistema di misura. Cosa voglio dire? Volendo fare un esempio molto banale, se io per esempio devo misurare il valore efficace o comunque l'ampiezza di un segnale sinusoidale con uno strumento di misura, qualsivoglia, che sia un multimetro, come impareremo a studiare fra qualche lezione, piuttosto che un oscilloscopio, come vedremo nelle prossime settimane, comunque strumento che consente per esempio di misurare anche la frequenza di un segnale oppure addirittura per esempio l'ampiezza, scusatemi, l'ampiezza di un segnale o informazioni relative all'ampiezza, come può essere il valore efficace, ovviamente per poter misurare in maniera corretta quel valore efficace o quell'ampiezza di quel segnale io devo essere sicuro che il mio strumento sia in grado di non attenuare per esempio o comunque non alterare l'ampiezza del segnale a quella specifica frequenza a cui devo fare la misura. Quindi volendo fare degli esempi numerici, immaginate che io ho una sinusoide nominalmente alla frequenza di un megahertz, quindi c'è un segnale alla frequenza di un megahertz, se io voglio misurare l'ampiezza di questo sinusoide devo avere uno strumento che perlomeno mi consente di arrivare a misurare fino ad un megahertz. Se dovesse essere uno strumento che misura fino ad una frequenza massima di 100 kHz, che cosa succederebbe? Succederebbe che magari quello sul display un'indicazione me la dà lo stesso anche se sto lavorando a megahertz, però non mi dà un'indicazione diciamo affidabile perché ho superato la sua massima frequenza di utilizzo e quindi che in gergo si chiama anche banda passante. Per cui tipicamente nel dominio della frequenza il tipo di curve o comunque parametri che vi vengono forniti per capire le caratteristiche appunto e per caratterizzare uno strumento da un punto di vista dinamico è in pratica la risposta in frequenza che probabilmente avete già visto anche in ambito di altri corsi, se non l'avete ancora vista sicuramente l'approfondirete in modo molto dettagliato penso soprattutto nei corsi dell'area controlli ed elettronica che si manifestano sostanzialmente con la realizzazione di alcune curve che prendono il nome di diagrammi di Bode. Perché parlo di curve al plurale? Perché in generale avete curve che consentono di andare a visualizzare tipicamente su scala logaritmica quindi in termini di decibel il modulo della risposta in frequenza quindi fondamentalmente il guadagno della HDF se considerate HDF intesa come risposta come funzione di trasferimento del mio sistema di misura o del mio sensore in generale e poi avete anche il diagramma della fase sempre in funzione della frequenza quindi generalmente che cosa avete? Avete sull'asse X appunto le frequenze crescenti spesso anche fornite in scala semilogarittmica semplicemente per comprimere un po' diciamo il grafico visto che quando si fanno queste analisi spesso si passa di diverse decadi di frequenze quindi si passa dalla 0 Hz fino anche a 100 MHz e così via e poi sull'asse delle Y nel caso della risposta in frequenza della funzione di trasferimento quindi del modulo fondamentalmente avete il dB mentre invece nel caso della risposta della fase avete i gradi generalmente oppure in alcuni casi i radianti però quello che è interessante soprattutto per gli strumenti di misura che danno informazione sull'ampiezza di un segnale come può essere un multimetro è quello di andare a individuare dalle specifiche per esempio del costruttore il relativo campo di frequenza cioè l'intervallo di frequenze nel quale la curva di risposta in modulo non esce da una fascia di tolleranza prefissata spesso questa fascia di tolleranza prefissata è 3 dB e quindi fondamentalmente a voi interessa individuare quell'intervallo di frequenze all'interno del quale questa fascia di tolleranza per esempio non esce al di fuori di un intervallo rispetto al valore nominale che potrebbe essere di 0 dB ovvero di non avere attenuato il segnale di una tolleranza appunto dicevamo per esempio di 3 dB questo numeretto 3 dB appunto è un numero che vi ricorre spesso e spesso va anche a identificare la banda passante appunto di un sistema nel caso specifico del sistema di misura e rappresenta se volete da un punto di vista pratico la massima frequenza a cui io posso provare a lavorare con quel sistema di misura quindi significa che fin quando io ho generalmente segnali all'interno con frequenza massima scusatemi che è inferiore a questa banda 3 dB tutto sommato posso ritenere che i segnali e quindi non vengono sufficientemente attenuati perché tenete presente che da 3 dB in poi poi l'attenuazione in realtà 3 dB significa circa 30% di attenuazione da quel momento in poi che fondamentalmente più o meno capita qua poi la curva tende a decrescere poi con una certa pendenza che dipende un po' dalla risposta del sistema ma comunque provoca delle attenuazioni significative e che renderebbero appunto il segnale da andare a misurare talmente piccolo da ovviamente poi diciamo fornire un'uscita molto distante da quella che è il segnale in ingresso dall'ampiezza del segnale in ingresso tenete presente poi che oltre alla frequenza 3 dB che spesso, o banda passante a 3 dB che spesso viene fornita come specifica meteorologica di uno strumento nei casi un po' più complessi e più anche completi di caratteristiche da parte del costruttore vi viene fornito invece indicazioni del tipo cosa succede anche all'interno della banda cioè perché non è detto che idealmente lo strumento abbia come dire un guadagno costante su un intervallo di frequenze abbastanza ampio ma potrebbe essere più caratterizzato da una sorta di ripple quindi di ondulazione attorno magari a questo 0 dB e che comunque è confinato all'interno di una fascia che spesso è una fascia di tolleranza che ancora una volta si esprime in termini di dB e che non so magari in alcuni strumenti di pregio può essere all'interno di 0,1 dB 0,1 dB in strumenti un po' meno di pregio questa fascia può diventare 0,5 dB 1 dB addirittura e quindi significa avere una risposta in frequenza assolutamente non piatta ma tutto sommato diciamo ondulata fino poi sempre ad arrivare ad una frequenza di taglio oltre la quale poi questa roba qua scende giù quindi la risposta tende ad attenuare molto il segnale questo poi ovviamente il caso della risposta di un sistema del primo ordine che spesso può essere considerato tale nella maggior parte dei sistemi di misura però nel caso in cui avete sistemi di ordine superiore tipicamente questo grafico potrebbe anche un po' modificarsi perché in corrispondenza della frequenza di taglio potrebbe starci una risonanza cioè significa che il grafico invece di scendere in questo modo tende a salire per un attimo per un certo range di frequenza a formare quasi una campana per poi riscendere ebbene in questa situazione qua la situazione diventa un po' più drammatica dal punto di vista di utilizzo perché ovviamente che cosa significa che se io ho una risposta del sistema molto diversa appunto nell'intorno in un range di frequenza relativamente limitato significa che è difficile pure prevedere bene la risposta del sistema e quindi anche è difficile poter giurare sull'affidabilità di quei risultati di misura eventualmente ottenuti in corrispondenza o in prossimità della frequenza di risonanza dove si verifica questa gobbetta quindi nel momento in cui il sistema in generale ha delle risonanze si cerca di stare lontano da queste risonanze perché poi diventa poco prevedibile tutto qui dentro ovviamente per utilizzarlo al meglio è necessario fare delle cercare di utilizzare lo strumento sicuramente nella zona in cui il guadagno è praticamente costante possibilmente pari a zero quindi sempre introdurre involontariamente delle attenuazioni o delle amplificazioni e magari anche cercando di non avvicinarsi troppo alla frequenza di taglio o alla frequenza 3 dB perché per definizione in corrispondenza di quella frequenza diciamo comunque c'è un'attenuazione del 30% quindi o so che la sto commettendo quella attenuazione quindi magari in qualche modo poi cerco di compensare il risultato dicendo ok io a questo numeretto che ho letto sul display poi devo sommarci qualcosa perché la stavo artificialmente sottostimando quella ampiezza oppure è meglio starci lontano e quindi cercare di rimanere come dire un po' al di sotto della frequenza di taglio in modo tale da trovarci in questa condizione qua e quindi di non introdurre noi con lo strumento di misura delle alterazioni su quella che dovrebbe essere l'uscita effettiva per quanto riguarda la risposta in fase nelle misure di ampiezza generalmente non ha un grosso significato però diventa importante quando magari si fanno misure di sfasamenti misure di differenze di fase fra segnali perché ovviamente a quel punto se ci troviamo in una parte in una regione di frequenza in cui il mio sistema di misura non introduce a sua volta degli ulteriori sfasamenti e quindi gli sfasamenti introdotti sono prossimi a zero allora poi quello che misuro quello che leggo è da ritenere abbastanza affidabile in termini di sfasamenti temporali o in termini di gradi se invece iniziamo ad andare in range di frequenza dove lo sfasamento introdotto dal sistema può essere significativo allora là poi devo prendere con le molle quello che mi viene fuori soprattutto se considero valori assoluti di ritardo che io sto andando a misurare se considero già differenze di ritardo fra due segnali misurati con lo stesso strumento allora tutto sommato posso anche magari prevedere una sorta di effetto di compensazione che non va a perturbarmi in pratica il delta T o il delta F che sto misurando ma se invece sto misurando un angolo assoluto o uno sfasamento temporale assoluto rispetto ad un riferimento allora questa cosa qui potrebbe crearmi problemi appunto mano a mano che vado avanti con la frequenza perché significa che io sto aggiungendo diciamo dei ritardi degli sfasamenti che sono non del fenomeno che sto monitorando ma sono dovuti alla non idealità dello strumento e quindi alla risposta in fase dello strumento in funzione della frequenza ovviamente anche in questo caso se uno conoscesse esattamente questa curva e quindi conoscesse esattamente il comportamento dello strumento in funzione della frequenza in termini di risposta in fase ancora una volta potrebbe fare un ragionamento che è quello che stiamo imparando ormai a fare cioè quello di se io ho degli effetti sistematici perché questo potrebbe essere visto come un effetto sistematico cosa faccio? Lo compenso e quindi cerco comunque di recuperare rispetto a quello che dovrebbe essere il valore vero, convenzionale di una certa grandezza detto questo sempre nell'ambito delle caratteristiche dinamiche qual è un'altra caratteristica che pure potrebbe essere interessante studiare? è vedere la risposta al gradino del mio sistema di misura o del mio trasduttore perché questa risposta a gradino mi consente di capire nel momento in cui parto da una condizione stazionaria quindi immaginate che un certo dato in ingresso o meglio un certo misurando l'ingresso al vostro sistema è costante quindi non so immaginiamo al solito da una misura di tensione un volt più o meno costante ma in un certo punto immaginiamo che il misurando subisce una variazione da un volt a due volt in maniera molto brusca perché c'è stata proprio una variazione del misurando allora che cosa succede? che ovviamente il mio sistema poiché non è un sistema diciamo di ordine zero in generale quindi che risponde in maniera istantanea generalmente ci metterà un certo tempo per adeguarsi al nuovo valore di regime della grandezza in ingresso che qui in questo grafico è indicato con y infinito per indicare appunto il valore al regime quindi che cosa succede? che in seguito ad una variazione repentina quindi diciamo così idealmente ad un delta nella grandezza in ingresso con pendenza praticamente infinita il mio sistema risponderà in maniera non ideale in maniera reale quindi con un transitorio che per esempio in questo caso è genericamente descritto attraverso magari un sistema del secondo ordine però potrebbe essere anche un sistema del primo ordine quindi un transitorio che ha non ha una sovralongazione ma tende diciamo attraverso una sorta di curva esponenziale al valore di regime però in generale diciamo indipendentemente poi dal tipo di risposta vengono forniti una serie di parametri su questa risposta del sistema in termini di tempi in particolare per esempio viene fornito il tempo morto che il tempo che intercorre tra il momento in cui viene applicata questa variazione e fino a quando l'uscita del sistema non raggiunge il 5% del valore di regime y infinito poi sicuramente un parametro molto interessante è il tempo di salita che rappresenta il tempo che intercorre tra il livello del segnale raggiunto del 10% e quando il segnale raggiunge il 90% quindi è quello che qua viene indicato con t con s poi avete il tempo di risposta invece che quello che include di fatto t con s più il tempo morto e quindi è quello che va dal 0 al 90% di y infinito e poi avete sicuramente un tempo molto importante ai fini pratici poi capiremo anche perché fra poco che è il tempo di assestamento che è il tempo inteso come quello che va da quando appunto si è applicata questa variazione in ingresso del misurando fino a quando l'uscita del mio sistema non entra all'interno di una certa fascia specificata da un parametro epsilon rispetto al valore di regime questo parametro epsilon dipende in generale dall'applicazione molto spesso anche in molti testi trovate che questo epsilon può essere il 5% ma non è detto dipende molto dall'applicazione nel senso che in alcune applicazioni il 5% potrebbe essere come dire soddisfacente in altri casi invece questo epsilon per poter dichiarare come dire che si è esaurito il transitorio ovvero che è trascorso il tempo di assestamento necessario a quell'applicazione potrebbe anche essere più basso 1% 0,1% dipende poi dall'applicazione è ovvio che più è piccolo questo epsilon più sarà stretta questa fascia e più diciamo mi aspetto che non uscendo più questa curva da questa fascia perché mano a mano queste oscillazioni vanno a smorzarsi tenderò sempre di più al valore di regime dicevo perché è in generale importante da un punto di vista pratico questo tempo di assestamento perché mi permette anche di capire appunto a seguito di una variazione improvvisa del misurando in ingresso in pratica mi fa capire dopo quanto tempo devo andare a considerare valida in pratica l'uscita che per esempio avrò sul display del mio strumento perché perché se per qualche motivo c'è questa variazione di tensione di un volt in ingresso e io me la vado a leggere dopo un certo intervallo di tempo che non è il tempo di assestamento ma me lo vado a leggere in qualsiasi altra in qualsiasi altro punto in qualsiasi altro istante prima che si esaurisca diciamo così in parte il transitorio e quindi rientra all'interno di questa fascia che per me diventa una fascia come dire ragionevole su sulla lettura del dato significherebbe andare a prendere dati che sono assolutamente sbagliati perché perché magari se io mi becco vado a fare la lettura troppo presto non ho ancora assolutamente diciamo esaurito nemmeno il tempo di salita e mi leggerei per esempio questo valore di tensione a dire ah c'è stata una variazione di per esempio 1.5 volt e invece scusatemi di 0.5 volt rispetto alla condizione di prima e invece il gradiente era 2 volt perché l'ho preso troppo prima se invece vado per esempio più o meno in corrispondenza di quando si verifica la prima sovralongazione rischierei di sovrastimare questa variazione se andassi a fare la lettura in corrispondenza più o meno di questo istante che sto indicando adesso io con il pallino con diciamo il puntatore diciamo laser vedrei fondamentalmente magari che c'è stata una variazione che è bene al di sopra di quella invece che dovrebbe essere al regime e dovuta al misurando ma perché perché questa sovralongazione è dovuta alla risposta del mio sistema di misura quindi se la vado a prendere in questa condizione addirittura anche se non si è esaurito il tempo di assestamento vado a sovrastimare magari la variazione che realmente poi in realtà si è avuto in ingresso per cui il tempo di assestamento mi dà un indice di appunto quanto tempo aspettare prima di poter ritenere ragionevole da un punto di vista pratico quello che io vado a leggere sul display e quindi ecco perché da un punto di vista pratico è un tempo interessante poi ovviamente su questa risposta a questo tipo di transitorio è possibile nel caso di sistemi superiori al primo ordine definire appunto anche una sovralongazione s come diciamo la distanza tra il picco della sovralongazione più alta rispetto al valore che si dovrà raggiungere al regime e poi è possibile definire un fattore di smorzamento solitamente come rapporto proprio tra questo s che dicevamo prima y infinito spesso espresso anche in termini percentuali quindi poi moltiplicato per cento oppure è possibile anche definire delle frequenze delle oscillazioni di assestamento come appunto le pseudofrequenze o i pseudoperiodi che praticamente vengono fuori dall'attraversamento di questo di questa oscillazione per il valore presunto di regime tutte informazioni che magari avete anche diciamo già definito nell'ambito di altri corsi però come vedete tornano poi utili anche nell'ambito dei sistemi di misura su questo posso andare avanti o avete qualche dubbio qualche curiosità professore sì io non ho capito bene il fatto del grafico tempo morto tempo di salita cioè mi sono perso non ho capito bene sì allora diciamo innanzitutto partiamo dalla dal fatto che per ottenere questo grafico in generale io devo sollecitare il mio sistema di misura con una variazione a gradino del misurando quindi significa che la grandezza in ingresso facciamo l'esempio della tensione è una subisce improvvisamente che aveva un bel valore costante fino a quel momento poi all'improvviso subisce una variazione un delta diciamo con una pendenza pressoché infinita quindi c'è proprio un bel gradino ok quindi immaginiamo che il misurando subisca questa variazione a gradino quindi che voglia portarsi da un certo valore che qua potrebbe essere convenzionalmente zero voglia portarsi o un valore precedentemente di riferimento a un valore che è quello precedente più un certo delta che qui è rappresentato con y infinito cioè il valore di regime ok ora cosa succede che il mio sistema di misura non riesce a seguire questa variazione in maniera istantanea ma come la maggior parte dei sistemi ha una certa costante fondamentalmente di tempo e una risposta che in molti casi può essere modellata attraverso un sistema del secondo ordine ovvero una risposta che prevede una sovralongazione quindi che va a superare il valore di regime che poi verrà appunto raggiunto successivamente per poi avere delle oscillazioni fino piano piano a rientrare all'interno di una certa fascia che è all'infinito raggiungere sostanzialmente il valore di regime su questo penso che non ho detto nulla di nuovo giusto? sì sì ok grazie perfetto ora a questo punto data questa risposta quindi questa curva nera posso andare a definire su questo diagramma alcuni parametri un primo parametro tutti più o meno legati al tempo almeno quelli là diciamo così che ci interessano di più che sono innanzitutto il tempo morto che è il tempo che impiega la curva quindi il mio sistema nel passare dallo 0 al 5% del valore di regime e quindi è questo tempo che passa da 0 fino a quando la mia curva non raggiunge per esempio lo 0,5% ok quindi non è disegnato qui perché qua stiamo a 0,1% 0,1 significa 10% quindi qua ci dovrebbe se ci fosse anche 0,05 avremmo la possibilità di individuare anche questo qui che per definizione è chiamato tempo morto 0,5 scusatemi 5% del valore di regime y infinito poi cosa succede? Quale altro parametro posso andare a definire? Il tempo di salita tempo di salita che sempre per definizione quindi non lo sto inventando io è il tempo che intercorre tra il momento in cui la curva ovvero la risposta del sistema passa dal 10% fino al 90% del valore di regime e quindi qua trovate come questo intervallo di tempo corrispondente a questo come dire start ottenuto in corrispondenza del 0,1 di y infinito ovvero significa 10% e fino ad arrivare a 0,9 di y infinito ovvero il 90% ci siamo? sì ok a questo punto poi sempre su questa curva posso anche definire quello che si chiama tempo di risposta che in effetti non è altro che la somma del tempo di salita del tempo morto perché va per definizione a considerare l'intervallo di tempo che va da quando il segnale parte quindi da 0 fondamentalmente fino a raggiungere il 90% e quindi di fatto il tempo di risposta è la somma di questi due tempi e infine poi abbiamo definito il tempo di assestamento come diciamo appunto ipotizzando che ci sia una risposta di questo tipo ma sarebbe stato lo stesso anche nel caso per esempio in cui il sistema avesse risposto con un modello del primo ordine quindi con una sorta di esponenziale diciamo che andava prima o poi al regime o comunque andava perso il regime è possibile fondamentalmente individuare una fascia rispetto al valore di regime ed ampia epsilon per cento del valore di regime che diciamo ci consente di identificare questo tempo di assestamento di delimitare questo tempo di assestamento in modo tale da far sì che quando rientriamo con la risposta all'interno di questa fascia allora significa che abbiamo esaurito abbiamo raggiunto il tempo di assestamento ok e queste sono diciamo le definizioni che ho dato su questo vi trovate o avevate qualche perplessità ok ho capito professore ok ok e poi abbiamo ovviamente diciamo definito anche questi parametri la sovralongazione il fattore di smorzamento e la frequenza delle oscillazioni di assestamento però sono tutti parametri abbastanza banali e che sono facilmente visibili anche sul diciamo sulla curva sul disegno va bene sì un'ultima domanda professore i parametri dei tempo morto tempo di salita e tempo di risposta saranno sempre quelli? no no quella è la definizione sì sì quella è la definizione vedete sono indipendenti da non ci sono dei numeri su y infinito quelli sono la definizione classica di tempo morto tempo di salita tempo di risposta sul tempo di assestamento trovate su alcuni testi che quell'epsilon per cento è il 5% in altri testi invece è indicato in maniera un po' più genetica perché è più legata all'applicazione diciamo che state svolgendo quindi in alcuni casi tollerare che la diciamo l'uscita rientri all'interno del 5% può essere un fatto come dire accettabile in altre applicazioni con invece magari soprattutto applicazioni misuristiche un po' più spinte si attende che quell'uscita stia all'interno magari di una fascia più piccola invece del 5% può essere un per cento può essere qualche altro numeretto perché poi tenete diciamo potete immaginare che l'ampiezza di questa fascia potrebbe poi essere un qualcosa che va a contribuire all'incertezza di misura perché se a un certo punto il mio misurando sta all'interno di una fascia che è più o meno il 5% perché il mio sistema di misura o il mio trasduttore non ha raggiunto ancora diciamo una una vicinanza rispetto a proie di regime fino al 5% poi devo accettare che come minimo ci sarà anche un'incertezza di misura del 5% legata a questa come dire sorta di aleatorietà e di variabilità della risposta del mio sistema di misura rispetto al misurando per cui diciamo quando io ho bisogno di avere delle incertezze di misura in generale più basse magari io devo immaginare che il tempo di assestamento sia tale da diciamo essere definito come quel tempo che mi permette di entrare all'interno di una fascia che è il più o meno epsilon per cento del valore di regime dove quell'epsilon per cento è un valore più piccolino di quel famoso 5 che in alcune applicazioni viene anche definito come valore di riferimento ok perfetto la ringrazio prego ok a questo punto andiamo avanti sempre nell'ambito delle caratteristiche dinamiche e definiamo il limite di velocità che rappresenta la massima velocità di variazione del misurando oltre la quale l'uscita non varia corrispondentemente questo è un limite proprio sulla pendenza cioè nel senso che se io ho una variazione rapida quindi una derivata del mio misurando in ingresso non è detto che il mio sistema riesca a seguirla con la stessa velocità quindi con la stessa pendenza e la derivata fondamentalmente massima che io riesco a seguire è definita da questo punto limite di velocità poi ci avete il tempo di recupero in inglese recovery time che rappresenta l'intervallo di tempo richiesto dopo un evento specificato ad esempio anche un sovraccarico affinché il sistema in generale riprenda a funzionare secondo le caratteristiche specificate cioè tenete presente che quando si verifica qualche evento per esempio anche il misurando per qualche motivo per un attimo per qualche frazione di tempo va a a sovraccaricare il mio sistema di misura perché subisce uno spike subisce una sovratensione improvvisa ovviamente tale comunque da non distruggerlo tutto sommato prima di poter riprendere a considerare affidabili i risultati di misura magari è necessario aspettare un certo tempo di recupero che trascorso il quale poi posso ritenere che le caratteristiche complessivamente metrologiche del sistema siano diciamo riprese ad essere quelle nominali quelle attese in generale poi sicuramente c'è un altro tempo che qui manca poi magari ve le aggiorno le slide che è il tempo di warm up più volte lo abbiamo accennato e poi diciamo ne abbiamo detto anche che è un fatto importante e cioè che quando voi soprattutto con la strumentazione elettronica andate ad accendere lo strumento prima di poterlo utilizzare avete necessità che sia trascorso un certo tempo di warm up quindi un tempo necessario allo strumento per raggiungere un equilibrio termico tale da poter poi ritenere valide tutte le caratteristiche metrologiche che vi ha dichiarato il costruttore se voi non aspettate quel tempo minimo fondamentalmente tutte le caratteristiche dichiarate sul datasheet anche in termini di accuracy di risoluzione di tutto tutto quello che avete visto diciamo dichiarato potrebbe non essere soddisfatta anzi sicuramente non saranno quelle avranno diciamo così un certo peggioramento e quindi se volete poi esprimere l'incertezza di misura associata a quella specifica misura dovete aspettare perlomeno che sia passato il warm up time in modo tale che poi a quel punto potete utilizzare quelle specifiche che vi ha dato il costruttore per poter poi ricavare l'incertezza di misura diciamo vi integrerò queste informazioni in queste slide quindi magari diciamo stesso in giornata o al massimo domani vi aggiungerò anche questa definizione che è mancante poi sicuramente altre cose importanti che vanno considerate non fanno parte delle caratteristiche dinamiche ma in generale fanno parte ancora dell'insieme di caratteristiche che devono essere considerate quando si utilizza uno strumento sono le cosiddette condizioni di riferimento queste condizioni di riferimento definiscono l'insieme delle fasce dei valori delle grandezze di influenza in corrispondenza delle quali sono valide le specifiche meteorologiche indicate dal costruttore ancora una volta quei famosi famosi data sheet fra poco ci torniamo perché vediamo qualche esempio che vi farò vedere nelle prossime slide valgono se le grandezze di influenza su cui avete discusso anche ieri molto tra cui per esempio c'è anche la temperatura ma non è l'unica abbiamo visto che visto che lo strumento interagisce con l'ambiente può avere diciamo può essere influenzato appunto da diverse grandezze a seconda anche del contesto e di quello che sta andando a misurare ognuna di queste grandezze di influenza può assumere in generale un certo insieme di valori contraddistinto generalmente appunto da una fascia quindi da un estremo inferiore e da un estremo superiore e se si è all'interno se si lavora all'interno di queste fasce quindi le condizioni operative sono all'interno di queste fasce allora posso sì considerare le caratteristiche metrologiche dichiarate dal costruttore e quindi per esempio le caratteristiche di accuratezza che poi mi serviranno per calcolare l'incertezza di misura ma se vado al di fuori di queste fasce di questi estremi devo considerare devo sperare di perlomeno avere a disposizione da parte del costruttore le cosiddette funzioni di influenza cioè in pratica delle informazioni sempre nel data sheet da ricavare nel data sheet che mi consentono di capire in che modo devo andare a peggiorare per esempio l'incertezza di misura ovvero o meglio l'accuratezza l'accurasi scusatemi dello strumento per tener conto del fatto che io sto andando a lavorare in un range per esempio di temperatura questo è un classico caso diciamo di esempio più banale se sto andando a lavorare in un range di temperatura che è diverso dalle condizioni diciamo di riferimento molto spesso capita per esempio e lo vedremo anche con degli esempi numerici che i multimetri digitali quelli che utilizzeremo anche in laboratorio ma anche quelli che vanno in campo quindi quelli portatili che possono essere utilizzati per le misure in campo prevedono che certe caratteristiche di accuracy valgono se si lavora all'interno di un certo range di temperatura per esempio 18-28 gradi questo non significa che se io lavoro a 15 gradi non posso fare la misura oppure che il mio strumento a 30 gradi si rompe significa semplicemente che quelle caratteristiche sono dichiarate e valide all'interno di un certo range che per esempio è 18-28 gradi dopodiché quando esco fuori subiscono generalmente un peggioramento e quindi anche la qualità della misura subisce un peggioramento però tutto sommato quantificabile perché spesso il costruttore proprio perché ritiene che lo strumento possa lavorare al di là di un certo range di riferimento mi fornisce un coefficiente di sensibilità che mi fa capire di quanto peggiorano le prestazioni in termini di accuracy e quindi anche di incertezza di misura alla fine a seguito del fatto che non sto lavorando in un range di riferimento per esempio della temperatura ok e quindi teoricamente un data sheet che si rispetti dovrebbe come dire contenere anche tutti questi coefficienti di sensibilità o comunque delle funzioni di influenza che consentono di vedere rispetto alle varie grandezze di influenza che possono essere temperatura umidità vibrazioni pressione eventualmente anche campi elettromagnetici poi dipende ripeto dallo strumento in che contesto viene utilizzato che cosa deve misurare perché a volte le grandezze di influenza possono anche essere legate stesso al misurando stesso come avete visto anche con qualche esempio del professore Betta se io ho tutte queste informazioni sono in grado comunque di capire dal momento in cui vado nel momento in cui per qualche motivo vado in condizioni operative che sono diverse da quell'insieme di fasce che rappresentano appunto le condizioni operative di riferimento poi sono comunque in grado di caratterizzare l'acchiurasi di quella misura e quindi poi arrivare all'incertezza tenendo conto anche dell'effetto delle grandezze di influenza ok e poi ovviamente diciamo tra le altre caratteristiche che pure dovrebbero essere dichiarate in un sistema di misura abbiamo la vita utile o life in inglese che dovrebbe essere la durata minima garantita di funzionamento del sistema di misura o anche questo vale ovviamente anche nel caso di trasduttore di sensori in condizioni di piena validità delle sue caratteristiche metrologiche cioè significa in condizioni in cui lui garantisce quelle caratteristiche di acchiurasi e caratteristiche metrologiche varie quindi sia diciamo statiche che dinamiche e poi ovviamente ci sono delle caratteristiche più legate agli aspetti fisici ovviamente questo vale soprattutto per i sensori più che per gli strumenti di misura perché ovviamente caratteristiche fisiche determinano proprio i materiali di costruzione le dimensioni il peso la tipologia di montaggio e così via ora giusto per farvi vedere come alcuni dei concetti che abbiamo introdotto con queste caratteristiche statiche e dinamiche ce li troviamo poi per esempio nei data sheet degli strumenti che potremmo andare a utilizzare abbiamo riportato in queste slide qualche esempio e non lo so consideriamo il caso delle specifiche di un multimetro abbastanza comune soprattutto per le misure in campo che è il Fluke 289 Fluke la marca 287-289 sono i modelli perché il manuale in realtà si riferisce a entrambi i modelli allora innanzitutto diciamo vi anticipo poi lo studierete molto meglio nella lezione di giovedì che il multimetro è uno strumento che come dice la parola stessa è uno strumento che consente di fare più tipologie di misure di grandezze elettriche grandezze elettriche di base in particolare vedrete consentirà di misurare tensioni in corrente continua tensioni in alternata poi vedrete cosa significa la misura in alternata correnti continue correnti in alternata misure di resistenza consente poi in generale in alcuni casi anche al secondo del modello di fare ulteriori misure tipo anche di frequenza sui segnali in altri casi addirittura consentono hanno diciamo alcuni multimetri da campo la possibilità di fare anche misure di tensione di giunzione su dispositivi elettronici comunque sono degli strumenti che la parola stessa fa capire consentono di fare più tipologie di misure in più ci hanno delle altre particolarità che più o meno accomunano tutti la tipologia di multimetri che potreste trovare voi in pratica sicuramente sono caratterizzati fissata la funzione di misura nel caso specifico per esempio la funzione di misura è la tensione in corrente continua poi che cosa c'hanno c'hanno la possibilità danno la possibilità all'utente di scegliere vari range che cosa rappresenta il range vi ricordate cosa rappresenta il range per quello che ha definito il professore ieri rappresenta diciamo l'insieme di valori in realtà spesso delimitato solo dal valore massimo del campo di misura dello strumento quindi i valori che può assumere o meglio che può assumere appunto in ingresso il misurando per fare in modo da rientrare appunto nel campo di misura dello strumento stesso e magari quando ieri avete parlato di queste caratteristiche e avete definito appunto questo campo di misura in inglese appunto poi diventa range magari non avete forse esplicitamente detto che gli strumenti potrebbero avere più range però nella maggior parte dei casi degli strumenti numerici digitali come il multimetro voi avete più range e per esempio nel caso specifico avete il range da 50 millivolt il range da 500 millivolt 5 volt 50 volt 500 fino a 1000 volt cioè avete uno strumento solo che vi consente di misurare fondamentalmente da grandezze che sono dell'ordine dei millivolt magari anche microvolt o centinaia di microvolt fino ad arrivare anche all'ordine delle centinaia di volt fino ad arrivare quasi a 1000 volt quindi con un unico strumento voi potete in generale coprire tutto questo insieme di valori però che cosa succede che proprio perché poi come si studierà ancora un po' meglio e più avanti non è conveniente avere un unico strumento cioè scusate un unico range per coprire questo insieme di valori piuttosto ampio fondamentalmente molti strumenti ammettono vari range appunto varie portate in modo tale che a seconda della entità di quello che io devo misurare vado a scegliere quello più appropriato come lo si sceglie? lo si sceglie in questo modo cioè se io devo misurare per esempio grandezze inferiori a 50 millivolt è ovvio che io andrò a scegliere un qualcosa che è un range a 50 millivolt se invece non andrò a scegliere magari il range da mille volt perché? perché se vado a vedere pure come sono specificate questa è la colonnina dell'acchurasi inizio a vedere come è specificato l'acchurasi che poi abbiamo iniziato ad accennare rappresenta un modo per cominciare a capire quale può essere il contributo di incertezza dovuto alla misura che fa questo strumento vedete che fondamentalmente poi faremo degli esercizi e lo capiremo ancora meglio con le esercitazioni però già iniziate a notare che diciamo questa acchurasi cresce proporzionalmente con da un lato con il valore letto con una percentuale del valore letto perché tipicamente come si svilupperà questa formuletta immaginiamo di fissarci qua 0.025% del valore che ho letto sullo strumento più un coefficiente che è costante 2 moltiplicato fondamentalmente per una quantità che è legata al range che sto utilizzando allora che cosa succede fateci caso mentre più o meno questi valori sono tutti prossimi tra loro perché passiamo dal 0.05% 0.025 0.025 0.03 quindi fondamentalmente sono numeri che più o meno sono tutti prossimi tra loro e una volta moltiplicati per il valore letto daranno dei risultati che sono più o meno tutti prossimi tra loro qua invece avete dei numeretti più o meno ancora prossimi tra loro tranne questo primo qui ma che però vengono moltiplicati per delle grandezze che sono molto diverse tra loro quindi che cosa succede che se io faccio un esempio vado a misurare un valore piccolo di tensione pure inferiore a 50 millivolt lo vado a misurare con una scala da mille volt quando poi andrò a dichiarare l'accuracy di questa misura andrò a fare qualcosa che è 0.03% di faccio un esempio 10 millivolt più questo termine per mille volt cioè più 2000 volt per cui avrò un'accuracy che è elevatissima diciamo quindi significa che se io utilizzo una scala diciamo molto spropositata rispetto a quello che è il valore del misurando l'utilizzare questa scala mi porterà sicuramente a problemi diciamo in termini di qualità della misura addirittura anche in termini di risoluzione perché se io utilizzo questa scala vedete lui mi dice che io al di sotto di 100 millivolt non riesco a scendere quindi addirittura non riuscirò a misurare nemmeno i 10 millivolt cioè vedrei 0 sul display quindi diciamo il fatto di avere più range a cui corrispondono anche più risoluzioni serve proprio per fare in modo che a seconda di quello che io devo misurare poi mi vado a scegliere la cosa il range che più mi consente di migliorare poi fondamentalmente la qualità della misura con questi aspetti qua ovviamente non dico altro perché poi ripeto lo vedremo un po' con gli esercizi e anche soprattutto poi anche con le nostre andate in laboratorio però è giusto per iniziarvi a farvi riflettere come poi certi concetti innanzitutto vedete certi parametri che avete definito che abbiamo definito li trovate poi pari pari nei data sheet ma poi inizio a dare anche delle informazioni in più anche perché poi vi trovate che per uno stesso parametro vi trovate più valori perché la maggior parte degli strumenti hanno più scale e così via e questo ancora una volta va un pochino a chiudere il cerchio con quegli aspetti che dicevamo pure un po' di lezioni fa quando dicevamo che poi spesso anche l'operatore ha un ruolo fondamentale nel processo di misurazione perché se io ho uno strumento che ha tanti range e poi scelgo quello sbagliato ha voglia di aver comprato lo strumento ha voglia di avere la Ferrari sotto ma se poi diciamo io lo faccio lavorare provo a fare la partenza in quinta e probabilmente diciamo la macchina non mi parte ok quindi in ogni caso l'operatore ha sempre la come dire una importanza fondamentale anche nella scelta della procedura di misura sempre per quanto riguarda le specifiche del fluo 287 289 vedete come anche tra le varie cose che trovate nel data sheet trovate ad esempio dati circa le temperature operative e lui per esempio vi dice che lo strumento può essere può lavorare in generale da meno 20 gradi centigradi fino a 500 fino a 55 gradi centigradi scusatemi mentre invece per quanto riguarda lo storage quindi il magazzino ammette ovviamente dei range anche un po' più ampio quindi questo è acceso quando è acceso può lavorare in questo range qui quando diciamo è spento è in magazzino e in più vi da anche per esempio dei range di umidità questi range operativi sia di temperatura che di umidità sono quelli consentiti per lo strumento durante il suo funzionamento in più vedete cosa vi dice qua una cosa interessante che è proprio legata a uno degli ultimi concetti che abbiamo visto prima e cioè l'effetto delle grandezze di influenza in pratica andando poi nel dettaglio del datasheet capite che se io lavoro all'interno del range 18-28 gradi vengo a farlo apposta è proprio l'esempio che vi facevo prima fondamentalmente io posso andare a considerare valide queste diciamo dichiarazioni di accuracy e quindi non so utilizzare una di queste formulette a seconda del range in cui sto lavorando ma se per qualche motivo vado al di fuori di questo range 18-28 gradi quindi io vado sotto o vado sopra praticamente vedete devo considerare un peggioramento dell'accuracy attraverso questo coefficiente di sensibilità perché è 0.05 per l'accuracy diciamo che dovresti ottenere per ogni grado centigrado distante da 18 gradi se sto verso il basso o da 28 gradi se sto verso l'alto quindi devo calcolarmi il delta T che c'è fra la temperatura minima o massima a cui sto rispetto a quella operativa a cui sto lavorando realmente e quel delta T mi consentirà di calcolare questo termine aggiuntivo da andare a diciamo ad assommare a questa accuracy di base per peggiorarlo in maniera tale da tener conto del fatto che non sto lavorando all'interno di questo range che era quello preferenziale per questo strumento infine in questa slide trovate giusto rapidamente diciamo invece alcuni dati che per esempio potreste individuare per un sistema non tanto di misura inteso come strumento di misura ma per per esempio un sensore un trasduttore che diciamo come avete visto avete accennato con il professore Betta a cui il sensore di trasduttore comunque è generalmente il primo elemento di una catena di misura e a cui possono essere applicati i concetti legati alle caratteristiche metrologiche statiche e dinamiche così come abbiamo fatto in generale per gli strumenti di misura e quindi ancora una volta potreste trovare informazioni tipo non so il range di misura quindi qual è il campo di variabilità del misurando poi eventualmente una soglia quindi una minima grandezza al di sotto della quale non riesce poi a misurare proprio nulla la precisione qui intesa come accuracy perché più o meno 0,5 metri al secondo sulla generica misura oppure se state al di sotto i 5 millisecondi oppure dice se state con misure con valori al di sopra di 5 metri al secondo stiamo parlando di un sensore di misura della velocità del vento la specifica di accuracy è 3% ancora una volta per esempio di qualcosa nel caso specifico del range quindi avete tutta una serie di informazioni che più o meno battono con quelle che sono le caratteristiche statiche o comunque le caratteristiche metrologiche in generale che avete che abbiamo introdotto in queste due lezioni anche qui non so un altro sensore vi indica qual è la temperatura di funzionamento e così via l'errore tipico le sensibilità i range di corrente e così via ovviamente sono solo degli esempi che servono solo a convincervi del fatto che quei parametri che abbiamo studiato sono parametri che poi vi trovate diciamo nei data sheet e quindi vi possono consentire da un lato una volta che avete già il sistema di capire come si comporterà il sistema rispetto alle grandezze di influenza che acchiura si aspettarvi che risoluzioni avete che range di misura potete avere e così via dall'altro se invece non avete già il sistema ma lo dovete scegliere dall'analisi di questi data sheet e dal significato che hanno appunto certi parametri rispetto alle definizioni che vi abbiamo dato vi possono consentire di capire se quel sistema di misura che state scegliendo è idoneo a quella che è la vostra specifica applicazione o meno va scelto un altro con questo direi di chiudere perché abbiamo ovviamente terminato anche il tempo anzi abbiamo sforato anche di qualche minuto avete qualche domanda allora interrompo la registrazione e ci vediamo e ci vediamo un po' Grazie.